Le nozze della divinità con l'umanità di Suorostia del cuore immacolato Santa Camilla Battista da Varano, la Santa Clarissa famosa per i suoi dolori mentali del Cristo nella sua passione, ancora da giovane principessa fece un voto decisamente particolare. Infatti la sera del 24 marzo 1479, ai primi vespri dell'annunciazione, intuì che la Vergine Maria all'annuncio dell'angelo aveva provato tale sublimità di amore divino che una sola scintilla di quanto la Vergine aveva gustato era superiore alla somma di tutti gli amori che si possano provare in questo mondo. Allora la fiera principessa decise di promettere alla Vergine di mantenere tutti i sentimenti immacolati, finché avesse capito quale fosse la volontà di Dio su di lei, ma ad una precisa condizione che le fosse concesso di sperimentare una scintilla dell'amore che Maria di Nazareth aveva provato nel ricevere l'annuncio dell'angelo Gabriele. Una richiesta alquanto audace ma che già portava in sé una vocazione altissima, poi compresa e corrisposta fino ai vertici della contemplazione e della mistica più alta. Ovviamente la madre di Dio è la prima a desiderare di farci partecipi anche di una sola scintilla dell'amore provato in quel momento decisivo per tutta la storia umana. Il verbo di Dio si è fatto carne in lei, la Trinità tutta ha guardato all'umiltà della sua serva, come innamorata del capolavoro di Dio, della piena di grazia. Sam Similiano Maria Colbe arriva ad osservare che in lei avviene il miracolo dell'unione di Dio con la creazione. In quanto l'immacolata è l'apice della perfezione del creato e che Cristo, uomo Dio, è il frutto dell'amore di Dio, un etrino e di Maria immacolata. In effetti l'angelo rivelò come sarebbe venuta tale unione d'amore dicendo E lo Spirito Santo è proprio l'amore del padre e del figlio che diventa fecondo nella sua sposa immacolata. Già la patristica e dottori come San Buonaventura o San Lorenzo da Brindisi vedevano questo evento come l'evento delle nozze della divinità con l'umanità. Ecco che lo Spirito Santo, come fuoco nel suo roveto, era già presente abitualmente nella Vergine. San Buonaventura, citando il grande Sant'Agostino, ci suggerisce la dinamica divina di amore aggiunto ad amore, fino al culmine del possibile umano. Dice, lo Spirito Santo è amore. Sopravviene lo Spirito Santo perché si aggiunge amore ad amore. E ancora citando Ugo di San Vittore, poiché l'amore di Dio ardeva in modo del tutto singolare nel cuore della Vergine, per questo compiva cose mirabili nella carne. Sì, lo Spirito Santo viveva già in lei e lei viveva continuamente in lui, poiché come immacolata non appannò mai con la benché minima sfumatura di colpa, la perfezione della sua pienezza di grazia, unendosi progressivamente sempre più con l'eterno amore. E come dell'amore di un uomo per una donna nasce il figlio carnale, così dalla Vergine con Dio è nato il figlio di Dio. Infatti il figlio di Dio, assumendo la natura umana, nell'unità della persona fece di due, cioè della divinità e dell'umanità, una cosa sola. San Buonaventura. Se le nozze della divinità con l'umanità vengono nel talamo dell'immacolata concezione, in quell'umanità perfetta c'era ognuno di noi, concepito nella grazia per opera dello Spirito Santo in colei che rappresentava l'apice dell'amore creato, l'immacolata Madre di Dio. Ora c'è più facile intuire, anche se lontanamente, cosa comporti una sola scintilla di quell'amore. Sì, perché lo Spirito Santo è amore fervente, fecondo, incontaminato, virile, incorrotto e deifico. San Buonaventura. L'incarnazione del Verbo è quindi il mistero che ci rivela l'amore della Trinità per noi e si può percepire solo guardandolo nella stessa prospettiva in cui si è realizzato. Oggi che anche la divinità di Gesù è talora messa insidiosamente in discussione e che l'immagine reale dell'immacolata Madre di Dio viene distorta e spesso offesa, è bene chiedere a colei che è Madre di Gesù e Madre nostra di farci entrare in questo mistero che rimane inaccessibile ai cuori infangati dallo Spirito del mondo e sull'esempio di Santa Camilla Battista d'Avarano mantenere tutti i sentimenti immacolati, così da attirare quella sola scintilla che vale più di tutti gli amori di questo mondo. Se vogliamo comprendere chi sia Gesù, dobbiamo chiederlo alla Sua Divina Madre. Il Papa San Pio X diceva infatti che la Vergine Santissima è il più grande e più efficace aiuto per la conoscenza e l'amore di Cristo. Enciclica Ad Diem Illum. A riguardo un esempio meraviglioso è quello del santo cardinale John Henry Newman che fu attirato come da una calamita dal mistero mariano dell'incarnazione in una conversione che dall'anglicanesimo lo portò alla chiesa cattolica. Il santo cardinale mosso dalla ricerca della verità e da un impulso interiore fu portato a studiare il mistero di Maria che ebbe una parte determinante nell'incarnazione la quale era per lui il cuore della nostra fede. Oserei affermare che l'idea centrale del cristianesimo è l'incarnazione e da essa provengono gli altri aspetti della sua dottrina. Anche la vita di questo santo cardinale inglese dimostra che come Gesù lo dobbiamo cercare attraverso lei e in lei non in un altro luogo ma solo in lei. San Massimiliano. Sarà la Madonna stessa a farci capire come l'incarnazione sia all'inizio della nostra salvezza nello svolgersi storico della redenzione. Da quel momento infatti iniziò la missione della madre come corredentrice dell'umanità, San Giovanni Paolo II, nella sua unica e attiva partecipazione al compersi storico della redenzione. Ringraziamo la nostra madre celeste e chiediamole con tutta la nostra confidenza filiale di dare anche a noi una scintilla del suo amore, dell'amore che ha unito la terra al cielo, l'umanità alla divinità.